La vocazione internazionale del Piemonte e di Torino è il nuovo attascabile di Palazzo Lascaris. La pubblicazione nasce dal convegno organizzato nello scorso maggio dal Consiglio regionale in collaborazione con il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte. Il volume è in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e si può scaricare dal sito cr.piemonte.it